che matti dice questo ma la nuova moda estiva trionferà il man che fa la pirouette in quarta moda anche per povero negro gomo da bella blusa mimetizzata con le eventuali macchie d'olio pedalini intonati con le striature della pedaliera gli shorts sono l'ideale contro i fiati caldi del motore scopoletta aerodinamica ronni risponde da per suo all'ultimo grido la piattaforma del camion fa da pedano la linea è veramente moderna studiata apposta per mettere in risalto le forme più vezzose